Cosa è il censimento del popolo veneto? È un sistema per contarci, vogliamo sapere quanti siamo. E questo è venuto fuori proprio in occasione, come dicevo prima, del fatto che è stato cancellato sul sito dell'ONU la dichiarazione di diritti dell'uomo in Veneto. E allora a questo punto, richiesto il perché, c'è stato risposto che non siamo riconosciuti come popolo. Essere popolo intanto vuol dire essere la pari di tutti gli altri, perché adesso noi qui invece siamo dimenticati come entità, perché il popolo veneto non essendo riconosciuto non abbiamo i diritti che hanno tutti i popoli del mondo. E quindi anche noi vogliamo essere la pari degli altri. Un censimento aperto a tutti? Indistintamente a tutti. Sono persone che si identificano nei valori veneti, che sentono di essere veneti, e che rivendicano questa appartenenza al popolo veneto. Per cui persone che condividono sostanzialmente il nostro modo di lavorare, il nostro modo di essere, i nostri principi, i nostri credi.